DIGITAL MEETING È un'occasione unica per incontrarsi in maniera non digitale e cambiare esperienze che possono servire a brand e consumatori. È una bellissima opportunità di contaminazione tra forme diverse di comunicazione digitale, piattaforme diverse, mercati diversi. C'è sempre da imparare, ci può essere contaminati da altri professionisti, da altre case history. Diversi approcci al digital in un'ottica di evoluzione perenne. Ringrazio Akes per questa opportunità e per avermi permesso di confrontarmi con i miei colleghi su tutti i temi.